Siamo contenti anche per questo, ma anche perché avete celebrato con la vittoria una stagione che ha portato la salvezza a Catania, che era un po' il risultato che inseguivate quando tu sei arrivato sulla panchina del Catania al posto di Giampaolo. Vai Francesca Sanipoli con Simeone. Sì, le statistiche dicono che Simeone ha fatto meglio di Giampaolo e quindi questa è già una soddisfazione. Però io volevo dire, oggi si aspettavano tutti una partita di messa dal Catania, invece voi in casa avete dei record spaventosi e credo, stavamo chiedendo proprio poco fa insieme a Simeone, se questa è la terza vittoria consecutiva e non era mai successo tra casa e fuori casa al Catania, giusto? Sì, qualcosa dicevano, sono molto contento per la partita che abbiamo fatto e soprattutto perché i ragazzi hanno rispettato assolutamente i nostri tifosi e al di là di aver la salvezza già in casa abbiamo fatto una partita tutta in salita. Una partita che l'abbiamo giocato molto bene e purtroppo abbiamo dato un espantaggio nel primo tempo però abbiamo sempre avuto tante palle gol e nel secondo tempo quando abbiamo visto che i ragazzi chiedevano di più del campo abbiamo finito giocando con tre indietro. Sì, la difesa tre tra l'altro tu non l'avevi mai utilizzata, è vero? No, l'abbiamo utilizzato negli ultimi minuti con la Juventus però vedeva che ci si poteva fare perché tanto Totti come Vucinic rimanevano troppo alti e ce la potevamo fare con tre e quello ci permetteva a centrocampo avere Lodi, Ledesma, Gome, Ricciuti. Insomma abbiamo spinto parecchio, abbiamo fatto una grande partita e sono prima molto contento per la gente del Catania e anche un po' per la gente dell'Alasio che sicuramente ha anche una possibilità in più. Viva la sincerità, ogni tanto un allenatore sincero lo troviamo che poi dice le cose come stanno, perché poi queste rivalità nel calcio secondo me è giusto che ci siano se si mantengono nell'impegno normale che ci deve essere per una partita di calcio. Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarti, avevi cominciato così così a Catania poi dopo hai chiuso alla grande, sei destinato a restare tu a Catania, almeno vediamo se sei sincero anche su questo. Siamo sempre sinceri, adesso siamo contenti per tutto quello che ci abbiamo dovuto lavorare per arrivare a questo momento. Adesso che vogliamo finire bene, non pensiamo un'altra cosa che finire bene la prossima partita con l'Inter che evidentemente per tutto questo che stiamo facendo sarebbe buono finire facendo una bella partita. Posso fare una domanda Enrico? Felicissima. Visto che abbiamo parlato della Juventus, sei d'accordo con Di Natale che ha detto che nella Roma e nella Juventus meritavano questo quarto posto? Lascia perdere la Lazio eh? No, io non posso entrare in queste cose, sicuramente sono contento per la Lazio perché ancora c'è una possibilità in più. Grazie. Va bene, basta, non lo mettiamo più in difficoltà, va bene che è sincero.